L'amico del cuore, il maestro preferito dei vostri bambini, per la prima volta in Disney DVD e videocassetta. Su, su, su. Ciao a tutti. Bear nella grande casa blu. Ah, ma siete voi. Conosceranno nuovi amici. Vi presento Gia, Tutter, Pippa Pop. Viveranno avventure. Sì. Impareranno divertendosi. È un rettangolo. Scopriranno la musica. Pippa e Pop, famosi maestri di ritmo, sono al suo servizio. Impareranno a socializzare. È magnifico quando le persone si uniscono per lavorare insieme. Ed esploreranno il mondo. Un pipistrello è un animale con le ali. Un inizio ideale per i vostri figli. Una serie vincitrice del premio Emmy. Io sarò sempre molto felice di vedervi. Bear nella grande casa blu. In Disney DVD e videocassetta. Da non perdere. Grazie per essere venuti nella grande casa blu. Spero vi siate divertiti. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Basta.